130 cori, 60 ore di concerti tra Chiavenna e Piuro, 3683 coristi, maestri e accompagnatori, numeri che da soli descrivono l'importanza di Rezia Cantat, la prima carovana delle Alpi reti che discena da venerdì 8 a domenica 10 giugno. Il velo è stato tolto nella sede della comunità montana della Val Chiavenna. La sfida era stata lanciata tempo fa dai maestri, dei cori Eco del Mera e Viril Samedan, ovvero i sindaci di Piuro o Maria Comella, e della località Svizzera, Ion Fadriudera. È una grandissima festa che coinvolge tre territori che è la Val Chiavenna, la Val Bregaglia e l'Engadina. Direi che i numeri parlano da soli, ci aspettiamo una grandissima invasione pacifica di gente disposta ad ascoltare e soprattutto ad assimilare un grandissimo patrimonio culturale qui presente a Chiavenna. Grande occasione turistica? Una grandissima occasione turistica anche perché tutte le strutture ricettive sono impegnate e poi vorremmo presentare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, quindi dall'enogastronomia ai crotti, a quelle che sono anche le eccellenze dei monumenti e tutto quello che riguarda la ricettività culturale e non solo del nostro territorio. Una manifestazione trasfrontaliera? Giusto, era sempre l'idea di fare qualcosa unico e così siamo adesso quasi alla fine e tutti si regaleghino per il prossimo weekend. Numeri importanti? Beh, sono quasi 3.800 coristi e aspettiamo verso 10.000 persone a Chiavenna. I cori si esibiranno in 13 location, 2 a Piuro, le cascate d'acqua fraggia e il palazzo Vertemate Franchi, 11 a Chiavenna, tra chiese, piazze e palazzi storici. Venerdì mattina nel cuore di Chiavenna si esibiranno 1.100 studenti dell'elementare delle medie della provincia di Sondrio. Ai 17.30 da tra i diversi punti della città muoveranno i cori e le bande per riunirsi in piazza Vertemati. Ai 19.30 al paraghiaccio la cerimonia di apertura. Il flusso di persone è importante, Chiavenna si sta preparando sia da un punto di vista logistico che turistico. Grazie al grande aiuto della protezione civile degli alpini riusciremo a gestire al meglio la viabilità, consigliando a tutti di parcheggiare all'esterno di Chiavenna ovviamente e di usufruire delle navette. Sarà un momento emozionante, importantissimo per Chiavenna. Queste tre vie che portano i coristi e le bande a ritrovarsi poi in piazza del comune tutti insieme, veramente sarà un momento bello. Una grande manifestazione che coinvolge non solamente la Val Chiavenna ma anche tutti gli amici svizzeri e quindi un'iniziativa molto valida per il nostro territorio. La musica coinvolge tutti e sicuramente siamo ben contenti di ospitare questa grande manifestazione. Grazie. Grazie.